Sarebbe drammatico il racconto della diciassettenne che ha partecipato all'assassinio della madre Antonella Salamone e dei due fratelli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5 anni, seviziati e uccisi durante un folerito di liberazione dal demonio. Protagonisti dell'eccidio familiare di Altavilla Milica sarebbero stati il marito della donna Giovanni Barreca, aiutato dalla figlia e da due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente, che li avrebbero convinti a compiere una sorta di esorcismo. Esattamente come aveva dichiarato Barreca fin dal momento della sua farneticante telefonata ai carabinieri «Buonasera mi devo consegnare, mia moglie era posseduta, in pratica è morta mia moglie, i demoni mi stanno mangiando pure a me». Adesso sono tutti in carcere con l'accusa di omicidio plurimo, aggravato da motivi abbietti e soppressione di cadavere. La ragazza avrebbe lasciato senza fiato i magistrati del Tribunale dei minorenni con dichiarazioni di interminabili violenze e torture, tutte riscontrate, peraltro, dai periti dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. «Eravamo in cucina, mia madre era a terra», ha raccontato la diciassettenne. Erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. Torturata a turno, mi diceva di chiamare i carabinieri, ma io per paura non l'ho fatto. La ragazza avrebbe chiarito che la madre è morta il 9 febbraio dopo essere stata seviziata per un giorno e seppellita in una buca scavata proprio dal marito e dal figlio. Poi è stata la volta del piccolo Manuel e anche lui torturato, perché dicevano di non vedere un bambino di 5 anni ma un demone. E infine del fratello più grande, Kevin, che nel frattempo scriveva via chat al suo miglior amico, «qui ci sono due fratelli di Dio per liberare mia madre e mio fratello, che hanno i demoni molto maligni addosso. Sono spaventato, ma questo è il mio credo, io metto tutto nelle mani di Dio e lui provvederà». Dalle indagini comunque si intuisce che ad un certo punto il ragazzo abbia provato ad allontanarsi da quella casa, ma sarebbe stato bloccato dal padre e poi legato con l'aiuto della coppia palermitana, con una catena rugginita, fili e cavi, facendo anche lui una fine atroce. Una serie di visioni sconvolgenti confermate anche dalle parole del procuratore di Termini Merese, Ambrogio Cartosio. In tanti anni di carriera non ho mai visto nulla di più orribile. L'autopsia sui corpi martoriati di Kevin ed Emanuele si è conclusa ieri sera. Per quanto riguarda i resti della mamma, si dovranno attendere ancora l'esame del DNA e tutta una serie di indagini. Le salme dei due fratellini sono tornati oggi ad Altavilla Milice, dove il comune ha allestito la camera ardente, che resterà aperta per tutta la giornata. Il parroco Don Salvo Priola, in serata, celebrerà una messa funebre. Il sindaco Pietro Virga ha proclamato il lutto cittadino e ha annunciato che l'amministrazione si costituirà parte civile nel processo.